La mia laurea era la vita, poi ho avuto la guerra, il mio dovere è il comando brigata. La mina, la mina è la sera, è il numero uno. Ho visto la foto di Celentano, per loro era un idolo, era un dio. Vuoto soccorso, quando è arrivato lì, con quella tuta, con quella barberi, ma tu dove vai? Lui abbiamo portato oltre un milione di persone da Andorra. Io vi ho detto, tutto ciò che capita a uno, abbiamo avuto anche fortuna. Grazie a tutti.